Ciao a tutti e benvenuti. In questo breve video spiegheremo che cos'è in poche parole il dogma fondamentale della biologia molecolare. Il dogma fondamentale o centrale della biologia molecolare è un principio formulato nel 1958 da Francis Crick, secondo cui il flusso dell'informazione genetica è strettamente monodirezionale. Si parte quindi dal DNA che coinvolge l'RNA e quindi arriva alle proteine senza la possibilità di poter invertire in alcun modo il percorso. Il termine dogma non va inteso però in senso assoluto, cioè quello di un concetto non soggetto a discussione, ma come un'importante ipotesi che, sebbene plausibile, aveva allora pochi riscontri sperimentali. Oggi sappiamo infatti che questa affermazione è soltanto parzialmente vera, poiché è possibile che le informazioni dall'RNA possano tornare al DNA. Nei retrovirus infatti l'informazione genetica è conservata nell'RNA e non nel DNA, perciò quando questi infettano una cellula devono convertire il loro RNA in DNA, in modo che questo possa integrarsi con quello cellulare. Per far ciò essi utilizzano un particolare enzima detto trascrittasi inversa, e inversa perché appunto trasferisce le informazioni dall'RNA al DNA e quindi in senso inverso a quello definito dal dogma fondamentale. Inoltre recentemente sono stati scoperti i retrotrasposoni che si replicano attraverso una retrotrascrizione dell'RNA che è trascritto dalla propria sequenza, mentre invece non esiste ancora nessuna osservazione che faccia presumere il passaggio da proteine a RNA. Ciò significa che in una cellula, e più in generale in un essere vivente, è possibile introdurre nuove informazioni soltanto attraverso il DNA o l'RNA, ma non attraverso le proteine. L'introduzione del dogma fondamentale cambia leggermente il concetto di un gene e una proteina, che abbiamo visto in un video precedente, e lo trasforma quindi in un gene, un RNA. Poiché nella cellula esistono diversi tipi di RNA, il prodotto finale di un gene può quindi avere diversi aspetti. Se l'RNA è strutturale o non codificante, l'attività del gene si può identificare con esso, mentre invece se è un messaggero è necessario considerare la proteina che ne deriva, e quindi se è una proteina strutturale, l'attività genica si identifica con quest'ultima, mentre invece se è un enzima, l'attività del gene sarà il prodotto della reazione controllata da quell'enzima. Detto questo abbiamo concluso questo breve video riguardo il dogma fondamentale della biologia molecolare. Per il momento è quindi tutto. Ti consiglio di iscriverti se non vuoi perderti i prossimi contenuti e se vuoi darci una mano a far crescere il canale, e di lasciare un like o un commento per farci sapere se questo video ti è stato d'aiuto. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e a presto!